A 2019 l'economia della Liguria sta ristegnando. Se dovessimo tirare le somme di questi primi nove mesi dell'anno dovremmo dire che tutti i segnali di ripresa che vi avevamo in qualche modo raccontato nei nostri ultimi incontri hanno prima rallentato e poi si sono fermati. Questa stabilizzazione ha riguardato tutti i settori, l'industria, i servizi e le costruzioni. C'è da dire che mentre per i primi due c'è stata un'interruzione nella crescita, per quanto riguarda le costruzioni abbiamo un primo segnale di stabilizzazione dopo una contrazione che è durata tanti anni. C'è qualche settore industriale che mantiene una certa vivacità o dinamismo. Parliamo dei settori più vocati al mercato estero, quindi parliamo di meccanica, parliamo di farmaceutica, parliamo di chimica e di elettronica. Per quanto riguarda il terziario abbiamo una crescita delle transazioni immobiliari a uso residenziale, mentre invece calano le presenze di turisti e calano anche i traffici commerciali del porto, portuali. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, diciamo che anche il mercato del lavoro, rispetto a quanto vi abbiamo raccontato a giugno dello scorso anno, ha subito un calo. Nel 2018 c'era stata una parziale ripresa dell'occupazione. È un calo molto contenuto, meno 0,4%. Non abbiamo altri segnali, altri indicatori che ci dicano qualcosa di nuovo. Insomma, gli indicatori circa la partecipazione al mercato del lavoro, la non partecipazione, sono uguali allo scorso anno. Quindi anche questo dimostra una stagnazione nel complesso dell'attività ligure. La spesa per investimenti è leggermente cresciuta, c'è un leggero progresso rispetto allo scorso anno. Noi, rispetto allo scorso anno, è riguardato sia gli investimenti fissi dell'industria, ma anche dei servizi. Mentre invece l'anno scorso avevamo registrato un considerevole aumento della spesa per investimenti, ma limitata all'industria. Ovviamente il quadro che vi stiamo raccontando fa sì che la domanda di nuovo credito alle banche sia stata debole, perché ovviamente c'è un tono congiunturale molto piatto. Pochi investimenti fissi e quindi è chiaro che la domanda è debole. Alla debolezza della domanda però qui hanno anche contribuito alcune operazioni di grandi imprese che si sono finanziate al di fuori del circuito bancario, quindi con operazioni infragruppo piuttosto che con emissioni di obbligazioni. Per quanto riguarda l'offerta, qui registriamo il permanere di condizioni di accesso al credito di stese, così come nel nord-ovest, ma non come nel resto d'Italia, dove cominciano a esserci dei primi segnali di rigidimento. Non abbiamo previsioni sostanziali di novità per l'intero anno e anche i nostri intervistati rappresentano condizioni sostanziali di stabilità. Direttore, lei prima ha fatto una metafora molto calzante, in una giornata soprattutto di vento, in una città portuale come Genova. Che vento soffia sulla Liguria? Bonaccia, direi bonaccia. Non ci sono segnali, per fortuna, di vento forte, però diciamo che le barche a vela vanno avanti con un po' di difficoltà. Quali possono essere i motivi principali che hanno determinato questo rallentamento dell'attività economica generalmente? Non dobbiamo dimenticare che noi viviamo un momento congiunturale internazionale che vede l'economia internazionale tutta quanta in ribasso. Abbiamo tensioni commerciali per quanto riguarda i Dazi, abbiamo l'economia tedesca che sta rallentando, cioè che ha già rallentato, lo sapete, ormai da tempo, soprattutto nell'automotive. Quindi diciamo che siamo in un contesto di rallentamento dell'economia a livello internazionale e mondiale. In Italia forse a questo si aggiungono anche incertezze sul quadro politico macroeconomico in generale.